Naro attacca Girgenti Acque, una mobilitazione contro i disservizi idrici, a cominciare dei tagli delle utenze in provincia di Agrigento che stanno mettendo a serio rischio la quiete pubblica. Il sindaco Pippo Morello, su input del Consiglio Comunale, dopo l'approvazione di un atto sulla vicenda ha sottoscritto un esposto rivolto alla Procura della Repubblica, all'Antitrust, all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, per indagare sull'operato di Girgenti Acque. Le dichiarazioni in merito del Presidente del Consiglio Comunale di Naro, Lidia Mirabile. Abbiamo deciso di cogliere un'iniziativa che già era stata avviata nella provincia di Agrigento dalla Comune di Sciacca. Attraverso la Camera del Lavoro di Sciacca è stato redatto un esposto da sottoporre l'attenzione dell'Antitrust, dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, e da indirizzare in particolar modo anche al nostro Presidente della Regione Crocetta, il quale si è già espresso nel 2012 con un decreto legge nel senso della pubblicità dell'acqua. Dal canto nostro, una volta rilevati quali sono stati i reclami effettuati da parte della cittadinanza, abbiamo fatto una scrematura di questi, abbiamo individuato quelli che nella maggior parte dei casi si sono verificati e abbiamo chiesto in collaborazione con la Camera del Lavoro di Sciacca di calarli nell'esposto, in modo tale da sottoporre l'attenzione delle autorità di cui parlavo prima, queste varie problematiche che anche a Naro sono state evidenziate. Una questione sociale che sta letteralmente esasperando l'intero comprensorio urbano, gli abitanti sono stanchi, oltre che dei disservizi legati alla distribuzione fattiva e materiale dell'acqua, anche delle strade dopo i lavori, ridotte come un colabrodo. Tutte le problematiche rilevate a Naro con poi il confronto con le altre amministrazioni sostanzialmente si identificano con quelle presenti negli altri comuni, quindi andiamo ovviamente all'esito dell'approvazione del nuovo regolamento tariffario dell'anno scorso effettuato dal Commissario d'Acta per i Comuni, all'uomento vertiginoso delle tariffe, nonché al debito a carico dei cittadini, adesso delle riparazioni delle varie condotte che richiedono l'intervento da parte delle girgenti, ma i rovinosi interventi anche sul territorio comunale con riparazioni vandaliche che poi hanno rilasciato insomma quello che oggi si vede nei nostri comuni, cioè un territorio pieno di buche che non riesce, peraltro anche a causa ormai delle pessime situazioni economiche che ci ritroviamo a vivere, a poter essere riparate all'esito dell'intervento delle girgenti da parte dei comuni. Grazie a tutti.